Un programma presentato da Buonasera e ben ritrovati a Pianeta Alma, il settimanale di Fano TV dedicato al calcio. Nessuna impresa e tantomeno miracoli. Dopo 57 anni l'Alma Juventus Fano sprofonda in un campionato a dimensione regionale. Era il 1967, allora quel campionato si chiamava Prima Categoria Marche. Adesso si chiama invece Eccellenza, ma il contenuto è grossomodo lo stesso. Rifatta dunque la storia, ma nella maniera peggiore che si potesse immaginare. Proveremo a ricostruire quello che è successo, ma soprattutto a capire quello che potrà succedere ora. Con il presidente dell'Alma Juventus Fano, Salvatore Guida, buonasera e bentornato. Campionato di eccellenza che schiude dunque le porte all'Alma dopo la partita di Avezzano, di cui possiamo vedere qualche immagine. Alma che era chiamata all'impresa non solo ad Avezzano, ma in quest'ultima parte di stagione. Ma che è caduta nuovamente vittima in particolare del complesso trasferta. Davvero pochissimi risultati nel corso della stagione, lontano dal Mancini. E oltretutto si è trovata alle prese nella circostanza la squadra Granata con un Avezzano in salute che ha dimostrato di tenere ai playoff. Davvero ci si credeva alla vigilia oppure era un modo di dire, presidente? No, guardi, io ci ho sperato, ci ho sperato fino alla fine, ci ho sperato da quando ho preso il club. Ancora non mi sembra vero, però l'abbiamo accettato, lo stiamo metabolizzando e stiamo cercando di andare avanti. Avezzano che si è dimostrato molto più concreto, come molte altre squadre al cospetto di un'Alma che invece ha nuovamente palesato quelle fragilità che ne hanno condizionato l'intera stagione. Possiamo anche vedere quelli che sono stati i risultati di questa penultima giornata della regular season con la sconfitta dell'Alma che si è coniugata in particolare al successo del Real Monterotondo sulla Matese che come vediamo dalla classifica ha reso la forbice fra il sest'ultimo posto e il terz'ultimo occupato dall'Alma di 12 punti e quindi nemmeno una vittoria nell'ultima giornata sulla squadra laziale consentirebbe di ridurla sotto le otto lunghezze fissate dal regolamento come soglia minima appunto per la disputa dei play out. Un terz'ultimo posto che però andrà difeso perché se c'è un'ottica ripescaggio da perseguire quel terz'ultimo posto è vitale. Assolutamente sì, questo posto va difeso con le unghie e con i denti mi auguro che i ragazzi riescano almeno a regalarci questo. Ma qual è la consera all'interno dello spogliatoio? Dopo una retrocessione si sa riaffiorano anche tutte quelle situazioni che magari nel momento in cui si persegue un obiettivo non vengono portate alla luce. Ma guardi, l'area che si respira nello spogliatoio è sicuramente un'area di una squadra retrocessa i ragazzi si sono allenati comunque con diligenza questa settimana è chiaro che nessuno è contento, nessuno è felice però c'è speranza o almeno c'è ottimismo per il futuro. E a questo punto rileggiamo quello che è successo in questa stagione ovviamente non tutta la stagione può essere riletta da guida in quanto Presidente solo a partire da febbraio e allora partiamo da quello che ha trovato e quello che poi in qualche modo si è impegnato a fare in questi mesi e con quali risultati. Certo, guarda, quello che ho trovato fondamentalmente è un gruppo di tanti bravi ragazzi è una società che dal punto di vista economico-finanziario non posso assolutamente criticare nulla. Quello che invece non ho trovato è stata sicuramente una cattiveria agonistica e un qualcosa che potesse dare uno sprint diverso in questo finale di stagione da quando sono subentrato io a febbraio. Purtroppo io sono stato un mero spettatore di questa stagione fino a febbraio e posso dire che qualche errore, qualche sbaglio, qualche scelta diversa è stata fatta ma questa è una mia opinione, ovviamente lascio poi a tutti quanti voi il libero giudizio su quello che è stato. Ma in che misura si sente responsabile di questa retrocessione? Come presidente, come proprietario di questo club al 100% la retrocessione è una mia responsabilità perché è chiaro che me ne sobbarco oneri e onori così come mi sobbarco l'onere della ricostruzione mi sobbarco l'onere di andare avanti e spero un giorno di averne anche gli onori di tutto questo quindi non posso tirar dietro la gamba, io la metto avanti sono io il presidente quindi sono un retrocesso io di conseguenza i ragazzi, quello che ho sempre detto, l'ho spogliato io tutto e devo evitare che loro si sentano responsabili perché è un gruppo giovane, deve crescere. È stato fatto tutto il possibile per mettere questo gruppo nelle migliori condizioni in campo? Secondo me sì e no la domanda anche oggi quando qualcun altro me l'ha rivolta se mi chiedi se si poteva fare di più sicuramente sì dirti che cosa oggi tutto e niente quindi veramente ti direi una sciocchezza sicuramente io mi sono sentito in questo momento di fare tutti i tentativi che potevano esserci poi i risultati lì dal campo. Ci sono state le tensioni anche palesate all'esterno quanto hanno influito? Secondo me tanto, secondo me tanto e non tanto nel gruppo interno quindi all'interno dello spogliatoio quello che si vive, l'area all'interno della società perché è stata un'area sempre di rispetto massimo di educazione e talvolta anche di divertimento purtroppo le critiche arrivate dall'esterno secondo me hanno colpito molto molto duramente e quello più che altro che ha minato un ambiente che già non era sereno di suo. Tensioni che però sono state originate così tagliamo la testa al toro anche da questa questione legata agli stipendi che torna ad attualità in funzione di un ripescaggio allora qual è il punto di vista della società e quale impegno viene preso a questo riguardo? Allora guardi il punto di vista degli stipendi lo abbiamo già contemplato qualche settimana fa proprio in questa trasmissione quindi abbiamo anche decantato i numeri che sono frutto di realtà e sicuramente non di finzione o di mistificazione l'impegno da parte di questa proprietà è lo stesso di due mesi fa è lo stesso di un mese fa è lo stesso di 15 giorni fa quindi le pendenze minime, massime ognuno è libero di leggere quei numeri come vuole saranno sicuramente sanati nei termini che sono quelli permessi dal regolamento sportivo al 30 giugno saranno sanati prima come ho detto anche oggi ad altri semplicemente per una questione organizzativa interna per poi effettuare le iscrizioni ai campionati di appartenenza prossimi però mi permetta di spezzare e di dire una piccola cosa dunque io non credo che la notizia questo l'ho sempre detto la notizia di un mancato pagamento sia stata così tanto urlata a gran voce dai calciatori sicuramente loro si sono tutelati negli strumenti e nelle armi che avevano quindi vedi l'AIC di riferimento che è intervenuta tre volte in quattro mesi mi sembra un po' troppo ma più che altro sono state sbandierate un po' troppo come dall'esterno e sono andate quelle a minare una serenità perché mentre i calciatori stessi si sono giustamente tutelati per conoscere quali erano i loro diritti i loro poteri e gli strumenti che avevano potuto adoperare nel caso in cui non ci fosse stato un adempimento un adempimento che ricordo al 30 giugno dall'esterno invece ogni giorno veniva generata una polemica diversa al bar, al giornale, in televisione così per sentito dire ma non erano i calciatori che generavano quella polemica era l'esterno che generava una polemica e secondo me è stata anche quella non solo quella è per l'amor di Dio ma al sana per un ambiente una squadra che si è trascinata nella stagione carenze oggettive da questo punto di vista quello che è accaduto tra la fine dell'anno e l'inizio del 2024 è stato eloquente è impattato in maniera notevolissima qualche riflessione ulteriore sul mercato nel senso non si poteva oggettivamente aggiungere qualcosa a questo gruppo che ne aveva bisogno a mercato lo ricordiamo di fatto chiuso purtroppo noi abbiamo cercato sul mercato almeno un difensore centrale perché avevamo infortunato un nostro ragazzo e un attaccante che potesse dare supporto al reparto avanzato purtroppo le nuove normative hanno generato di poter cercare e pescare soltanto in un serbatoio di giocatori svincolati da un tempo troppo lungo quindi purtroppo in quel serbatoio di ricerca lì non c'è stata nessuna figura che potesse essere idonea o pronta per l'uso perché sì, c'erano anche delle figure che potevano dare un valore ma fisicamente non erano a posto e i tempi di recupero sarebbero stati più lunghi della fine del campionato L'arma d'oggi è in eccellenza ma domani, dopodomani o anche in un tempo più dilatato dove potrebbe trovarsi? Ci riferiamo all'ipote di ripescaggio che in questo momento è estremamente vaga perché siamo all'inizio di maggio oltretutto il tema ripescaggio ha portato delle scottature ancora molto dolorose cosa si può dire a questo riguardo? Ma sicuramente questa società si impegna affinché se ci fossero i presupposti di poter effettuare un ripescaggio sicuramente di farlo al meglio io non lo so fare il ripescaggio quindi sicuramente mi affederò a persone competenti che saranno sicuramente in grado di poterlo fare se ci sono i termini se ci sono le condizioni e se ovviamente Lega e Federazione ci permetteranno di poter avere accesso io mi auguro sicuramente di poter vedere il Fano in Serie D Il saldo di rispettanza è una delle condizioni l'altra è appunto conservare il terzo ultimo posto perché altrimenti il ripescaggio diventerebbe una chimera ci sono poi tutta una serie di parametri che andranno confermati ma se si fa riferimento alla normativa in vigore l'anno scorso incideranno lo storico della società l'attività svolta a livello giovanile anche il primato conseguito nuovamente una classifica giovane di valore avrebbe nuovamente un peso chiaramente dipenderà anche molto dai posti che si libereranno in categoria parliamo di ambiente parliamo di atmosfera intorno alla squadra parliamo di rapporti con l'amministrazione comunale in questi mesi ci sono stati momenti di attrito ad oggi la situazione qual è? l'amministrazione comunale è completamente assente in ogni sua forma, in ogni sua sostanza e assente veramente in ogni tipo di contatto con questa società ma credo che questo sia anche un percorso intrapreso negli anni e nel tempo precedente al mio arrivo quindi non mi meraviglio di tutto questo anzi me l'aspettavo oggi ho ringraziato pubblicamente l'assessore Tien Lucarelli perché si è creato un rapporto con lui per quello che stiamo costruendo quindi una valorizzazione del brand della città insieme alla squadra è stato entusiasta di questo progetto l'ha portato avanti con diligenza e lo sta portando avanti con diligenza per il resto devo dire che ci sono state promesse disattese interventi mai avvenuti vicinanza zero avevo chiesto di non essere lasciato solo invece non vedo nessuno tifoseria? tifoseria, la tifoseria chiaramente c'è una parte di tifoseria che si sente di contestare io posso comprendere dopo la retrocessione ma contestavano anche prima per motivi che sicuramente saranno loro avranno fatto loro, vediamo mentre invece c'è un'altra parte di tifoseria che in ogni caso mi dà fiducia, mi sostiene è chiaro che la fiducia e il sostegno che mi danno deve essere comunque corrisposto non dalle chiacchiere ma dai fatti e i fatti sono presto detto pagamento dei calciatori iscrizione ai campionati di appartenenza e eventuale speriamo ripescaggio l'attuale proprietà si assume la sua parte di responsabilità in questa retrocessione chiaramente l'altra parte va ricondotta alla proprietà precedente perché se è vero che il presidente russo aveva comunque onorato tutti i propri impegni fino al momento di in qualche modo di smettere di fatto l'alma Juventus Fano quello che è accaduto in particolare alla fine dell'anno ha avuto un impatto molto preciso molto netto sull'andamento di questa stagione perché ricordiamo che alla fine del 2023 ancora all'inizio del 2024 questa squadra era comunque in rotta salvezza ma guarda sì sicuramente la retrocessione è maturata in un periodo di tempo che sicuramente va dal primo luglio al 5 maggio poi è chiaro che gli infortuni la destabilizzazione dell'ambiente le polemiche una serie comunque di vicende sfortunate anche sui campi perché ti ricordo il pareggio attivo lì e percorreremo alcuni degli episodi chiave ci sono stati comunque anche una serie concatenata di eventi diciamo sai quando in una stagione deve andare tutto storto va tutto storto quindi ritengo che le responsabilità siano di tutti e di nessuno io mi prendo le mie da presidente perché è giusto che sia così come se fossi qui da 20 anni uguale rivediamo alcune tappe chiave di questo calvario a partire da quella seconda giornata di campionato l'alma è a Fossombrone si impone per 2-0 sul campo dopo aver pareggiato al debutto contro il vasto Girardi risultato vanificato dall'impiego di un giocatore Rigioni che risultava squalificato dal campionato precedente il Fossombrone fa legittimamente ricorso il risultato viene ribaltato 3-0 a Tavolino per il Fossombrone chiaramente un risultato che a rileggere oggi la classifica ha un peso enorme perché l'alma con quei tre punti praticamente sarebbe nella condizione di giocarsi alla vigilia dell'ultima giornata la possibilità di un play-out proprio contro il Fossombrone che avrebbe tre punti in meno abbiamo detto della legittima mossa del Fossombrone di fare ricorso detto questo l'atteggiamento del club metaurense è sembrato quantomeno cinico perché il Fossombrone era l'unica società in grado di conoscere la posizione di Rigioni in quanto lo stesso Rigioni come altri giocatori del Vivaio a Granata sono stati dati in prestito al Fossombrone e lo stesso Rigioni aveva contribuito non poco alle fortune del Fossombrone assolutamente sì ti dico come come presidente il rispetto e accetto ovviamente la decisione la scelta del Fossombrone la condivido poco perché magari ecco se fosse stata una partita chiave per la salvezza probabilmente io al posto del Fossombrone avrei fatto lo stesso ma in quel momento là insomma parlavamo di un inizio di campionato secondo me per i buoni rapporti fra società io avrei optato per scelte diverse poi è chiaro ognuno prende le proprie decisioni e se ne assume le conseguenze domenica si giocherà Alma-Ventusano Real-Montero Tondo all'andata Alma in vantaggio di due gol fino a pochi minuti dalla fine come vediamo dalle immagini grazie alla rete nel primo tempo di Orbinati di testa poi nel secondo tempo di Mancini nel finale accade quello che in più di un'occasione è successo quest'anno l'Alma non sa reggere l'urto va un po' in confusione regala un rigore e anche la superiorità numerica la squadra di casa che riacciuffa proprio nel finale il 2-2 e anche quelli sono due punti persi che oggi avrebbero fatto estremamente comodo due punti quelli due punti quelli di Tivoli metti due punti due punti due punti forse neanche i play-out si andavano a disputare eravamo salvi però purtroppo il calcio non è una scienza esatta e ci sono anche questi momenti come ti ho detto la squadra è giovane è una squadra che è maturata tanto secondo me quest'anno anche per una serie di vicissitudini però è una squadra che è chiaro è giovane è una squadra giovane e questo è il risultato Gioventù che ha rappresentato una scelta precisa se è vero che poi la classifica giovani di valore ha riconosciuto la superiorità del Fano rispetto alla concorrenza detto questo ci sarebbe stato bisogno infatti lo dimostrano oggi anche di giocatori di più provata affidabilità altro risultato gettato all'ordica appunto quello recentissimo di Tivoli dove in una partita molto sofferta l'Alma era riuscita a ribaltare la situazione dopo essere andata sotto nel corso del primo tempo grazie a due rigori trasformati da Gonzales anche in questo caso nonostante il 2-1 fosse maturato proprio nel recupero in coda a quello stesso recupero il 2-2 questa è una partita che il presidente Guida ha vissuto dal vivo sì infatti io parlo di quello che ho vissuto direttamente e qui effettivamente sono stati purtroppo due punti persi in modo abbastanza sfortunato certo forse fortunato anche se avessimo vinto però il calcio non sempre vince chi esprime il miglior gioco abbiamo parlato del gruppo parliamo anche della conduzione tecnica di quest'Alma al suo arrivo Guida ha trovato Cornacchini che poi ha lasciato l'incarico ha ingaggiato Manoni è stata una scelta che rifarebbe no guardi io Cornacchini ho avuto modo di conoscerlo veramente poco con me ha disputato solo una partita che era quella di Notaresco quindi non posso sicuramente esprimermi né sui valori tecnici né di uomo devo dire Cornacchini è stato sensibile alla situazione e si è dimesso e dopodiché la scelta di Manoni sì era una scelta io volevo un allenatore che potesse trasmettere al gruppo grinta e caparbietà il tempo era veramente poco anche lì magari non entro nel merito dell'allenatore perché non faccio l'allenatore poi se qualcuno mi dice il mister avrebbe potuto fare qualcosa in più credo anche lì il mister avrebbe potuto fare qualcosa in più però ripeto non entro nel merito perché io non sono un allenatore quindi non riesco a vivere quel tipo di atmosfera e le pressioni che vive anche un allenatore a proposito di scelte rifacciamo la domanda sulla scelta di prendere il club Granata e soprattutto di prenderlo in quel momento verrebbe rifatta oggi tutta la vita sì e a proposito di impegni ce ne sono in ordine al campionato che la squadra Granata dovrà disputare ma ce ne sono anche sul piano della programmazione sono stati elencati in queste settimane diversi propositi anche per attività extracampo vengono tutti riconfermati assolutamente sì non cambia di una virgola il nostro programma il club è sempre lì indipendentemente dal campionato di appartenenza mi auguro che il campionato possa essere lo stesso chiaro questo è un augurio una speranza un desiderio e in caso contrario si disputerà un'eccellenza con tutti i presupposti che ci sono per fare un campionato sicuramente diverso da quello di quest'anno come ci si muoverà però in queste settimane sul piano organizzativo e anche eventualmente della formazione della nuova squadra allora sicuramente dopo il fischio finale di domenica io azzererò tutte le cariche della società perché è giusto ripartire non dalle macerie ma dalla disfatta perché secondo me non ci sono macerie ci sono anche tante note positive da cui ripartire azzererò le cariche e si costruirà una nuova società mi auguro che possa diventare forte e solida che possa percorrere un ciclo sportivo da quella si comincerà a costruire la squadra per il prossimo anno la squadra per il prossimo anno che come ho detto oggi ripeto anche questa sera e posso dire quello che non voglio rivedere l'anno prossimo un campionato di bassa classifica questo non voglio riviverlo anche perché in eccellenza sarebbe difficile da digerire io stavo parlando della serie D poi in eccellenza cerco ancora ancora non ho metabolizzato che la squadra va in eccellenza quindi mi auguro ancora di essere al terzo posto mi auguro ancora di poter effettuare un riposcaggio mi auguro ancora di poterlo fare nei migliori dei modi e mi auguro ancora che possa essere accolto questa dicotomia eccellenza da una parte serie D dall'altra avrà un riflesso sulle mosse che saranno fatte perché chiaramente gli obiettivi divergono e anche la formulazione dell'organico è fondamentalmente diversa questo sì e in questo dovremmo essere bravi per cercare di sbagliare di meno al fine di non rovinare poi il percorso sportivo del campionato di appartenenza mi pare sia emerso chiaramente però a conclusione di questa trasmissione di questo ciclo di trasmissioni possiamo confermare che Salvatore Guida resta la guida dell'Alma Juventus Fano senza tema di smentita? non c'è stato mai nessun dubbio se qualcuno ha avuto qualche pensiero diverso è frutto di qualche film di fantascienza visto di troppo grazie a Salvatore Guida Presidente dell'Alma Juventus Fano grazie a voi tutti per averci seguito in questo miniciclo di trasmissioni e buon proseguimento di serata